Ai domiciliari con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanza stupefacente e il provvedimento scattato nei confronti di un commercialista andriese di 37 anni dopo l'arresto in flagranza di reato da parte della squadra mobile di Andria, il professionista sarebbe un volto noto in città anche se la questura BAT non ha comunicato quale sia la sua identità. Secondo quanto appreso il 37enne era solito spacciare cocaina anche ad alcuni suoi clienti. L'arresto rientra tra le attività della polizia di Stato finalizzate al contrasto al fenomeno dello spaccio ad Andria, misura cautelare, fanno sapere dalla questura BAT che segue l'arresto avvenuto nei giorni scorsi nei confronti di un altro cittadino andriese responsabile della stessa attività delittuosa. Il commercialista andriese, finito ai domiciliari, su richiesta della procura di Andria, secondo le indagini era solito spacciare dosi di droga a chi passava dal suo studio o a componenti della sua cerchia di conoscenti e amici, composta anche da professionisti della città. L'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trani ha fatto sapere che in attesa di apprendere se si tratti o meno di un proprio iscritto, sarà la procura a notificare il provvedimento nel caso in cui lo fosse verrà avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti.